qui sotto se tutto bene sì solo una botta cerca di morire di vecchiaia e non di infezione non mi va di spararti in testa ok ci sto bene come arriviamo sul tetto non lo so ok Grazie. Ha trovato niente di utile? Il bottino non è male. Ottimo. Ottimo. Da questa parte. Sono dentro. Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Qui ci sono spori. La maschera. Ecco.